Ciao a tutti, oggi è sabato 12 maggio 2018, mi trovo qui dove c'è il teatro comunale, vedete qui il teatro e qui c'è l'ex bar Marini, allora vedete qua tutto sporco, abbandonato, il bar è chiuso, almeno prima era tutto pulito, qui ci dormono e qualcuno ha perso il cellulare, guardate adesso lo prendo e lo porto ai vigili, vedete eccolo qua, vedete qui tutto fogliame, tutto sporco, guardate qui questo gabbiotto, c'è una coperta, vedete allora qui c'è qualcuno che dorme, ormai in Alessandria possiamo fare qualsiasi cosa, vedete qui c'è anche il suo scopino per pulirsi la stanza, vedete però la stanza è tutta zozza, va bene, comunque anche questa è Alessandria ok, va bene, io dal sopralzo del bar Marini, eccolo qua, ve lo faccio vedere bene, vedete eccolo qui, io vi saluto ed è un peccato che non ci sia più questo bar perché almeno era tutto pulito probabilmente c'è qualcuno che vuole la città sporca e magari manda via la gente che tiene pulito lo spazio, eh, guardate, questa qui è una mattonella, guardate qua come si muove, che uno sale ci inciampa, vabbè, comunque questa è Alessandria e chi è che la salva più? Ciao a tutti!